Riscatto di laurea. I tre casi nel quale conviene sempre. Il riscatto di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il proprio percorso di studi universitario. Il riscatto di laurea non è gratis e permette di anticipare o di accrescere il valore della tua pensione. Abbiamo individuato per voi tre casi nel quale conviene sempre. Vediamoli insieme. Uno, se sei quasi al termine della tua vita lavorativa, stai raggiungendo l'età pensionistica ma non hai ancora maturato almeno 20 anni di contributi. Due, se vuoi anticipare di qualche anno la pensione, essendoti laureato in tempo, avendo iniziato a lavorare da subito senza buchi. Il terzo è il caso più vantaggioso di tutti, ovvero quello di un lavoratore con redditi elevati che si è laureato prima del 1996 e è iniziato a lavorare dopo il 1996.